Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, ha convocato domani a Roma il tavolo bieticolo saccarifero nazionale, un incontro al quale però non sarebbero state convocate le segreterie di CGL, Cisle e Will, i sindacati dei lavoratori del sito Termolese. Il futuro dello zuccherificio molisano resta ancora incerto, anche se fino al 2017 le quote disponibili dovrebbero permetterne la continuità. Le sigle sindacali già da tempo avevano chiesto all'azienda, alla regione e al ministero delle politiche agricole di studiare interventi per permettere investimenti di salvaguardia del comparto e dei livelli occupazionali, mentre resta che nell'ultima campagna gli ettari seminati sono stati circa 5.000, consentendo la lavorazione di circa 250.000 tonnellate di barbabietole e la produzione di 33.000 tonnellate di zucchero, il cui prezzo oggi sarebbe inferiore ai 400 euro a tonnellata. Intanto i 16 indagati sulla vicenda giudiziaria legata allo zuccherificio Termolese sono chiamati a comparire dinanzi al giudice Antonio Ruscito, venerdì 19 a Isernia. I fatti risalgono a 5 anni fa, quando l'ex governatore Michele Iorio scelse per salvare dal fallimento l'industria saccarifera, Remo Perna, imprenditore isernino nel campo manifatturiero, il quale beneficiò di cospicui fondi dirottati dalla regione molise. I reati contestati a vario titolo agli indagati vanno dall'abuso d'ufficio alla truffa, dal falso ideologico immateriale al peculato, tra essi ex amministratori e funzionari regionali, titolari e consiglieri dello zuccherificio.